Tra sei o al massimo sette mesi Prato La Peligna avrà il centro per l'autismo che sorgerà nell'immobile di proprietà dell'Asl, ubicato lungo la strada per Prezza nei pressi dell'ITIS. La struttura era destinata ad ospitare una residenza sanitaria assistita, ma non è mai stata utilizzata. Con il centro, che sarà al servizio non solo dei bambini autistici, ma anche degli adulti, si avrà ora ugualmente un utilizzo a scopo sociale. I lavori sono iniziati lo scorso lunedì e prevedono la realizzazione di 30 posti letto, di cui 10 residenziali e 20 semiresidenziali. E questa è una bellissima pagina della sanità, detto l'assessore regionale Silvio Paolucci, intervenuto stamani insieme al direttore generale dell'Asl, Giancarlo Silveri, per sottolineare il lavoro sinergico con il comune di Prato La Peligna. Sindaco Antonio De Crescentis, tra sei e sette mesi, come ha annunciato l'assessore Paolucci, questa struttura diventerà realtà e quindi si giungerà alla conclusione di un percorso che, come lei ha ricordato, è incominciato nel luglio del 2007. Esatto, un sovralluogo in piena estate, primi mesi del nostro mandato, della prima legislatura, quando abbiamo concepito, insieme al dottor Carrara, che era la loro Presidente della Comunità in Montana, l'idea di destinare questa struttura al centro per l'autismo. Dopo tante peripezie e dopo tanti cavilli burocratici siamo arrivati a un punto in cui la direzione generale si è convinta della bontà di questo progetto che l'amministrazione ha proposto sin dall'inizio, l'ASRA è riuscita a trovare anche i fondi utili per intervenire e il dottor Sconci ha creduto, che è responsabile del Dipartimento di Neopisiciatria, ha creduto in questa idea e in questa offerta che andava fatta al territorio. Questo è un territorio che ha molto bisogno. Con l'operazione, dal costo complessivo di un milione e centomila euro, si riuscirà a rivalutare una struttura abbandonata e a fornire un punto di eccellenza in grado di dare una risposta alla problematica dell'autismo. Assessore, lei ha detto che abbiamo fatto passi da gigante. Questo che cosa vuol dire? Il problema autismo fino ad adesso come era stato affrontato? Nel passato in realtà le prestazioni sociosanitarie e soprattutto quelle sociosanitarie territoriali chiaramente erano state affrontate con un alto tasso di inappropriatezza. In un mare magnum, tutto chiamato articolo 26, venivano inserite vari setting assistenziali e purtroppo non vi era né adeguatezza dell'offerta né la rispondenza rispetto alla domanda. Oggi, per la prima volta in questi anni, con un processo di profonda riconversione, cominciamo a mettere le cose nel modo più corretto possibile, ovvero riappropriamo le nostre prestazioni. Questi sono davvero passi da gigante perché questa appropriatezza, la corretta offerta rispetto a una corretta domanda, ci avvicina molto alle regioni del nord. L'investimento fatto a Prato-la-Peligna viene visto nell'ambito dell'integrazione sociosanitaria in ottica di riorganizzazione territoriale, ha aggiunto l'assessore Paolucci. L'apertura è prevista tra aprile e maggio del 2015. Questa è la prima struttura presente per autistici adulti. Ce ne abbiamo alcune private di età infantile. Questa è la prima struttura per adulti, della quale c'era assoluta necessità. È una scommessa che abbiamo fatto con noi stessi. Il secondo insediamento per autistici che abbiamo, l'Aquila era stato realizzato nel 2010-2011, questo e poi ne faremo uno nella Marsica.